Conferenza del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana. Il capogruppo Giuseppe Luppo denuncia la condizione di stallo del governo della regione. Il Partito Democratico ha già presentato 63 disegni di legge. Abbiamo chiesto al Presidente Musumeci di trattare questi disegni di legge in aula affinché davvero il Parlamento siciliano possa approvarli. Disegni di legge che riguardano diversi settori produttivi, che possono dare una bocca d'ossigeno all'economia e ai diversi settori dell'economia. Penso alla riforma del turismo, ma penso anche alla nuova legge urbanistica, la legge per le zone franche montane, la legge a sostegno dei comuni che hanno bene un esco. Sono davvero tante le nostre proposte sulla pesca, per la tutela dell'ambiente. Penso al disegno di legge plastic free per tutelare soprattutto le nostre aree naturali. Un insieme di proposte che abbiamo elaborato, che riguardano anche la sanità, che riguardano il commercio, l'artigianato. Davvero tanti settori che aspettano risposte concrete dal Parlamento e che il governo regionale non può più paralizzare. Anche all'assestamento di bilancio. Quindi la Commissione bilancio non è più in grado di dare copertura finanziaria a nessun disegno di legge. Non è ancora stato approvato il documento economico finanziario. Non è stato neppure presentato il rendiconto. È una paralisi davvero molto grave. Crediamo che ci sia una nuova emergenza finanziaria. Per questo ho chiesto che il Presidente Musumeci venga in aula per riferire e informare il Parlamento su questa nuova grave emergenza finanziaria che paralizza la Regione. Grazie. Grazie.